ma vorrei tanto farlo faccio il coso per salvare giusto dai andiamo devo fare il coso per salvare no? metto la capanna qua ma c'è già la capanna di capanna dove la vedi? ma è qua dove è qua? mi porto più a io ci sei? peccato l'acqua in pieno peccato solo acqua sei vivo? ma mi porto si sono vivo dio porco dio porco non so che fare vabbè lo prendiamo a cecchinate no? mamma no che li buttò l'ho fatta tutto io tu non hai fatto niente eh ma che cosa vabbè 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 io non ho fatto vabbè c'è vabbè vabbè ok c c infame cos'era 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 c'è un min cazzo video che figlio no che figlio e mamma faccio io sto niente vedo la tua testa di merda wow luca non sono mai arrivato a questo punto cosa vuol dire non essere mai arrivato a questo punto vorrei capire qualcosa ma sto che bello finalmente qualcosa di moderno cazzo guarda quella quale dove sta ah ma buongiorno si sta dimenando a qualcosa che non va secondo me è eccitato e basta in culo po' porco dio perché non sei morto cioè ma no timi mi sto spaccando metà testa ma tu stai guardando me gli attacco dei tubi però billy cioè buzzi proprio di merda fattelo dire ci gli attaccano mi interessa che mai ci sono questi cosi che fanno trasformare il bambino timi non sto facendo il video non mi stai guardando vero si non mi stai vedendo che sto facendo il video giusto si ciao bello ciao ciao bella bambina ma che bella cazzo mi tocchi non mi toccare figlio di puttana sta crescendo un cazzo in bocca questa cosa non è che mi si è piaciata oh che bella mmm ahhh 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 io c'ero vicino però potresti venire qua vicino no 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 quei bambini di merda forco dio ahhh 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 tutto bene? ahhh 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 pretem bleche in bocca mi è arrivata ve grupazia assurda st ok li ho presa bambini k mi hai tirato no mi hai fatto sprecare tutto mi ha fatto sboccarmi aia no lo so se poteva mettere cos'è un telefono ok no, non ho un telefono finalmente cliff simple request ma perchè posso mettere una granata qua dentro questa cosa non ho capito ok, non so dove amificarmi la tessera tranquillo sto facendo già io e guarda dimmi quando ti svegli e ne è già giusto, grazie, molto gentile tra l'altro sto portando la cena tu ridi, meglio sto portando la mente e quella non la porta più quella che bella ha visto anche se io sinceramente vorrei tornare è questo raggio che mi fa battere le vedi aria aria vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua dovremmo essere in trecazzo per farlo, devi cliccare continuamente questo clicca continuamente x quando ti fa fare vieni qua vicino a me, clicca continuamente x vieni qua vieni qua ok, ho fatto qualcosa cosa abbiamo fatto io ci fanno i miei video io sto facendo qualcosa, ma tu mi vedi fare qualcosa, lo sto facendo anche te no, lo stiamo facendo anch'io clicca sto cazzo di tasto cosa è successo ti vedeva un botto penso che ha appena attivato il coso l'abbiamo spento ok, l'abbiamo spento perfetto ma mica dobbiamo attivarlo no, l'abbiamo spento adesso ci giriamo e vedremo l'aereo passare potrei anche non dire Marta c'è è in teoria ancora c'è la mappa da là